Ehi! Stai bene? Gesù. Forse ho fatto del male a qualcuno. Sono Ed Warren, sono qui con Lorraine. Va bene, diamoci da fare. Gli abitanti di Brookfield sono rimasti scioccati dall'omicidio di Bruno Salsa, avvenuto nel pomeriggio. La corte accetta l'esistenza di Dio ogni volta che un testimone giura di dire la verità. È ora che accettino anche l'esistenza del diavolo. Qualsiasi cosa stia succedendo, qualunque cosa accadde quel giorno, quello non era Arnie. È il totem di una strega. Crediamo che la vostra famiglia sia stata maledetta e che la connessione sia ancora aperta. Mi interessa solamente la realtà. Ma io posso vedere cose che la sua gente non vede. È successo qualcosa di terribile qui. Un maestro satanista non è un avversario da prendere alla leggera. Lei lo sta rifacendo. Sta raggiungendo l'oscurità. Lorraine, torna indietro. Salvarlo vale tutto quello che avete. Lorraine! Perché è quello che potrebbe costare. Lorraine! Ed! No! No! Grazie a tutti